Allora un campanello. Allora ho parlato che abbiamo un po' di problemi. Abbiamo pagato di lavori, abbiamo un po' di debiti. Però abbiamo lavorato, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato con la taglierina, abbiamo avvicinato alla dama e... ZAM! Abbiamo partito quattro dici. Un codice quattro dici. All'ospedale. Abbiamo una sua moglie. Allora? Eh? 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 Beh... Abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato, che i problemi si risolve. Però questa, la, l'ultima, va accadere all'ospedale dopo tre episodi, va a sentar su una campanella a mezzo del fa. Guarda che, non so se so è il campanella ma sarebbe che Now risolve tutto. Che riesce sulle costruzioni per andare? Bia sia sul campanella? Per far, però mi sonata noi. E poi sono segretamente senza grasse. Que fa? Penso, che abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato perché mi manca quattro dili e questo che dio, io sono proprio ignorante quel vaso io ho fatto grazie che mi hai aperto la vista pensa che io li ho coppia perché ho fatto una cosa che ti ha detto e tu che ti senti a lavorare e tu sai cosa ti vale ma che va là e va là ma spero il cuore che mi ha grattato